salvatore voliri eccoci qui il nuovissimo episodio siamo niente che poco di meno su fallout e come sempre sono l'arax di cormaris allora posso dirvi che siamo a necropolis necropolis non è un bel posto poi per ironia della sorte non so il perché a necropolis ci si arriva sempre di sera ed è sempre un casino perché non si vede niente vi avviso che la gente non è simpatica no sto ancora guardando in caro vaniere ok infatti mi sembrava strano all'inizio io la cosa divertente che non sapevo come gestire esattamente la situazione cioè non conoscevo nemmeno esattamente cosa erano i ghoul quando ho giocato a fallout quindi credevano che ero tanti zombie li ho fucilati uno dopo l'altro anche perché hanno il brutto vizio oggettivamente di attaccarti a caso non c'è un vero motivo del perché lo fa cioè il motivo cello si capisce con la storia però sono brutte persone fondamentalmente vi basti sapere questo perlomeno non in generale non siamo razzisti come fallout 3 però il punto che la tradizione che hanno li ha portati a essere molto cattivi questo non significa che sono gulferali questi qui che vedete sono tutti assolutamente prettamente totalmente senzienti il problema è che sono stati incattiviti se possiamo così dire tra parentesi perché ci sono così tanti ghoul a necropolis e piccole curiosità su necropolis visto che ci siamo chi altro c'è nei paraggi che mi vuole attaccare più nessuno a quanto pare non li ammazzo totalmente o per meno forse sì 255 d'esperienza un colpo per ciascuno non è malaccio diciamo non è malaccio affatto comunque piccole dicevo curiosità su necropolis vabbè necropolis perché dal greco antico necropolis la città dei morti necropolis la si vede sia nell'intro ok il primo episodio la parte muta dove si vede la tv no ecco lì dietro quella tv con l'edificio diroccato quella lì è necropolis oppure anche nel menu principale dietro il soldato in armatura atomica sempre quella lì è necropolis e vi posso dire che tra tutti è uno degli edifici che è una delle strutture che mi è uscito anche perché se vedete i bordi non ci sono griglie verdi ce n'è una sola rossa che è di uscita quindi come mi muovo dentro necropolis semplice usando la fognatura e non sto scherzando cioè qui ci si muove tramite pognatura è un bel colpetto alla testa cade ma non muore attenzione cade ma non muore e direi che inutile che ve la faccio vedere mi rastrello tutta l'area tranquillamente ok rieccoci signori ho sterminato tutto il circondario praticamente manca solo l'ultimo gruppo e avvicinatosi qui ci dà effettivamente l'indizio se non l'avevamo già carpito qui ce lo dice qui arrivati qui perché ci c'è in questo punto devono essere passate diverse persone probabilmente dirette alla bottola infatti volendo noi possiamo aprire il coperchio della bottola ma a parte quello direi che c'è una bella ricarica danni che ho subito sono principalmente dovuti sempre a quello stronzo di anna del cazzo vaffanculo ok li ammazzo tutti perché come sempre c'è come vedete non ci fanno danno ripeto ci fa più danno ian che il resto infatti hanno in generale ha fatto più danno ian a tutti quanti che i ghoul a noi dice veramente fanno uno due danni tipo ma perché sono sia dio per un attimo povero che pensavo aveva colpito dog meat dicevo perché da un lato sono sia disarmati senza armatura e per lo più in generale in quanto ghoul in fallout 1 si aveva automaticamente la meno mazione degli arti che da svantaggio nel colpire o comunque se colpisci si fanno meno danni ora quindi vediamo di ammazzare un bel po di questi cadaveri ambulanti ok su avvicinati bravo ciccio bello bravo andai accanto a quello col fucile a pompa che idea palesemente di merda ma del resto loro non anche possono fare molto ora mi aspetto che ian colpisca dog meat onestamente se non riesce a ammazzare quel ghoul strano strano oggettivamente strano ok me lo colpisce al torso perché se il nostro amico ci riesce ecco era scontato che tico ammazzava il ghoul però voglio evitare di togliere voglio togliere le persone di fronte alla traiettoria di ian perché questa partita non lo so il perché sta palesemente fallendo ok guadagniamo i nostri bei 300 punti avventura si esperienza che tra l'altro dobbiamo ancora salire di livello abbiamo esperienza a 27 mila prossimo livello 28 mila quindi volendo anche solo qui dovremmo riuscire con una certa tranquillità a parlare qui vediamo un ghoul manager quale stai facevo qui lo so nello scorso episodio effettivamente tralasciando gli accenti strani e imprevedibili di loxley tra l'altro apprezzo anche effettivamente anche il commento di stefano che come sempre sa favelare in antica lingua l'abbiamo visto anche più che largamente su baldur's gate a parte quello effettivamente dove kissley aveva detto che preferiva l'accento veneto mi spiace oggettivamente l'accento veneto è uno dei pochi che non so fare al massimo mi so dire la cannuccia horta horta però a parte quello l'accento veneto non lo so fare questo qui invece è bello che spagnoleggiante più che altro riferito a l'immigrazione spagnola verso l'america per quello c'è uno spagnolo qui sto cercando i resti del futuro passato sono a ricerca della tecnologia perduta qui non si trova magari nel tempio di sopra o da que d'otto smamma ok di cattiveria proprio direi che io analizzo qui tanto se mi caghi il cazzo ti fucilo all'istante pure te e per il resto qui vediamo un vecchio computer no una scrivania è la scrivania dispositivo se provo a riparare non dovrebbe minimamente funzionare però ripara non puoi ripararlo ok vediamo qui perché c'è una bomba orologeria nel cassetto vi scusi perché abbiamo una bomba orologeria la pubblicità sul fianco la pubblicità non è la pubblicità è un frigoripero me lo apra gentilmente vabbè tu gulla hai intenzione di che cosa vuoi oh loro sono più amichevoli ecco di quelli esterni chiaramente molto più amichevoli ehi là ok questi sono molto più amichevoli quelli di fuori ve lo ripeto non sono ferali ma sono stati incattiviti poi capirete in seguito e più nello specifico da cosa o più concretamente più concretamente da chi quello lo capirete come avete visto è fondamentalmente un mezzo hotel lo so se vi dè tutto scuro c'è abbastanza acqua per tutti dobbiamo ringraziare set per questo ok è set che gli ha incattiviti è inutile che vi continua a tenere il mistero ah figlio di troia spappola il cranio a questo bastardo qualcun altro vuole fare brillanti gesti eroici contro la mia persona no chiedo veramente allo ci siamo mio piccolo dogmit oh andiamo pure quello dell'altra camera si muove che due coglioni oddio io che pensavo che questi erano pseudonormali e questo conferma anche il fatto signori che non snè il concetto che sono ferali di fatto nel fallout 1 non esistevano ancora nemmeno i ghoul ferali il problema era proprio il fatto che sono stati radicalizzati da questo set che ha fatto credere a tutti i ghoul che loro sono una sorta di razza superiore che gli umani sono uno schifo e quindi li dobbiamo eppurare tutti quindi il fatto che hanno questo atteggiamento passivo aggressivo nei nostri confronti magari ci parlano e tutto però poi a un certo punto si cagano il cazzo ci fucilano tranquillamente cioè ci fucilano ci provano ad attaccare tranquillamente è carne fresca si come no è perché fondamentalmente vigi una regola che può uccidere anche set va bene anticipo che praticamente ogni ghoul che non è in grado di uccidere un uomo non è un reale ghoul è una nullità pertanto loro non ci attaccano però così se gli gira decidono di ammazzarci però almeno ci provano ben inteso infatti io con quella cosa divertente mi ricordo la prima volta l'ho detto pensavo che erano zombie poi è arrivato di sera loro che mi attaccano subito sono corso via nelle fogne perché oggettivamente ero impaurito cioè immaginate voi state giocando tranquillamente a un giochino in 2d vi trovate in questa mappa totalmente oscura piena di questi morti che strisciano invece di camminare un altro po' era veramente traumatizzante per me all'epoca poi del resto ero piccolo oggettivamente comunque in seguito continuando a rispondere ai commenti visto che ci siamo rispondendo a The Walking Slayer sì effettivamente mi ricordo la questione di quando trovi la seriamente ci stai provando no ma chiedo non voglio uccidere il messicano strano però seriamente ti devo fare fuori possiamo chiudere un occhio e ognuno vive in tranquillità seriamente non c'è bisogno di farlo so dicevo sapevo della confraternita oscura dell'armatura quando arriverò logicamente prenderemo l'armatura atomica per il resto ti ringrazio tantissimo dei complimenti mi ha definito un genio perché ho fatto tanti soldi no ma non sono oggettivamente un genio sono semplicemente una persona che ha già giocato fallout sa più o meno dove deve andare a parare cosa fare e cosa non fare e in generale come organizzare la questione e a proposito di questo signori c'è anche proprio il fattaccio della perdita di tempo ah ma era il manager quindi si eh ragazzo mio ti dovevi fare i cazzi tuoi mi spiace perché questa è la cosa triste in realtà questo non so se è un mezzo bug ma loro non dovrebbero attaccarci loro ci attaccano di fondo e istigano gli altri a fare lo stesso quindi questo è il motivo principale per cui ci attaccano però ad esempio il ghoul manager non avrebbe dovuto attaccarci e se vi chiedete qual è la storia del perché parla spagnolo perché nella loro grande idea degli sviluppatori praticamente loro avrebbero doveva essere un ghoul che stava qui praticamente da prima della guerra faceva il manager non sapeva che altro fare e ha continuato a fare il manager nelle rovine del suo hotel perché come vedete questa è una specie di stazione di servizio barra hotel per il resto benvenuti nelle mirabolanti fogne di città diamo un po' una bella occhiatina in giro anche perché nelle fogne si nascondono non tantissime cose ma ci sono due tre cose che dobbiamo tenere sott'occhio e dicevo appunto continuando a rispondere ai commenti per quanto riguarda la perdita di tempo che abbiamo avuto effettivamente non è da poco abbiamo perso un bel po' di giorni però su quello in generale vi posso dire di non preoccuparvi più di tanto avremo la soluzione a portata di mano perché giustamente anche The Walking Slayer ha detto è uno dei motivi che anche a me all'inizio ha spinto a non voler giocare il gioco perché era tempo in più sinceramente solo 200 giorni ok qui usciamo dall'altra parte perfetto solo 200 giorni oggettivamente è veramente poco vedendo i giorni che si perdono però se può rincuorarvi la cosa che vi posso dire più di tutto è che in realtà il timer questo lo dico in generale per chi si vuole approcciare non è uno spoiler si fermerà ok dopo Necropolis il timer si ferma non vi spiego il perché il per come o il per cosa e quindi non ci sono di fatto bisogno di 200 giorni in totale 300 se mettiamo i mercanti dell'acqua per finire il gioco in realtà voi avete molto ma molto più tempo per farlo o più che altro per completarlo nella maniera che voi retenete più opportuna il gioco perché in realtà il tempo abbonda però chiaramente spiegato così non era non è affatto il massimo me l'hai proprio fucilato topo maggiore tralasciando anche che i topo i rattitalpa in realtà non esistevano i topi maggiori erano pensati proprio per essere topi in stile di endil topazzo enorme per intenderci a parte questo dicevo quindi per quanto riguarda le tempistiche per chi vuole giocarselo vi posso già dire tranquillamente di non preoccuparvi perché tanto il tempo si ferma ed è anche tantissimo a disposizione perché fondamentalmente 300 giorni per fare tutto quello che abbiamo fatto se ne passa più che largamente voi fate conto che ce la stiamo prendendo anche largamente comoda perché tra parentesi dove Kingslayer effettivamente ha detto secondo me hai fatto un errore a sprecare tutti quei giorni per guadagnare solo 600 tappi ed effettivamente è vero l'ho fatto semplicemente per farvi vedere come funziona la questione carovane e in generale per farvi tra l'altro siamo saliti di livello per farvi vedere che nonostante tutto perché immaginavo che arrivava un commento simile nonostante tutto il tempo ne abbiamo più che a disposizione ce la siamo presi largamente con comodo e quanto abbiamo speso 105 giorni se vogliamo arrotondare 106 giorni ne abbiamo a disposizione ancora 194 perché se andiamo a pagare il mercante delle carovane dell'acqua ci aggiungono 100 giorni quindi se per sé il tempo lo abbiamo rocce ah avevo capito riocce che cazzo sono vedi resti di guardia zombie che poi in realtà qui non è propriamente una traduzione esattissima non è zombie comunque un pungolo per bestiane modello miglior amico del foro fattore prodotto dalla walls elettronica utilizza piccole celle l'energia per l'alimentazione ecco questa è una prima arma fondamentalmente che otteniamo corpo a corpo a energia cioè non la prima arma corpo a corpo mi correggo la prima arma effettiva a energia e tra l'altro sono così di vedere quanti danni fa 12-22 i miei coglioni comunque per essere un'arma corpo a corpo non è male affatto tralasciando che ok noi abbiamo il cecchino e non usiamo armi corpo a corpo però in generale niente male miei complimenti ora sto analizzando tutti i tombini per essere sicuro di dove sto andando e se ricordo bene questo dovrebbe essere il tombino che ci porta sulla strada accanto ok perfetto li apriamo tutti perché questa è la mia maniacale voglia di non chiudere il tombino ok è la mia maniacale voglia di essere completo al maschio che cosa c'è cadavere un mix sono stati uccisi di recente oh ma se vado da questo invece no non vedi niente di strano qui sempre uccisi di recente per curiosità eh se seguiamo praticamente la scia di cadaveri nelle fogne lui aveva un coltello utile non ci segna esattamente se sono umani però dalla skin sembrano gullo oggettivamente quindi non saprei in che forma districarmi contro cioè perché sarebbero morti probabile a causa dei topi enormi giganti estremamente cattivi ok qui ci dovrebbe essere una griglia di uscita perfetto la prima griglia di uscita questo posto mi fa venire i brividi non dirlo assolutamente a me ragazzo mio veramente non dirlo in nessuna maniera per il resto per quanto riguarda il commento di stefano che è bellissimo ragazzi vi consiglio di andare a leggere ha fatto un mix tra la questione di robin hood che effettivamente ci ha tenuto a sottolineare come un po' avevo accennato che deriva proprio dalla loxley deriva proprio dalla storia di robin hood perché robin hood meglio conosciuto anche come robin di loxley è passata la storia poi come robin hood e in realtà si riferisce a quello in seguito per quanto riguarda la questione del dead club devo ringraziare tutti e due scusate stavo un attimo leggendo per sicurezza dovevo dire se ho dimenticato qualcosa barriere di metallo incendiario vi ringrazio tutti quanti per i complimenti per dead club ma ve l'ho detto i dead club in fallout 1 sono molto marginali e già tanto se ne abbiamo incontrati due a malapena a fine avventura ma proprio esagerando al massimo ma proprio al massimo ne incontreremo altri 5 in totale nulla praticamente comunque il barriere contiene delle carte e altri rifiuti e quali qualcuno ha dato fuoco beh questo è chiaro se avanzo pianamente pianamente che mi dici vedi il capo dei ghoul ma non è set grazie per non aver sparato posso aiutarti in qualche modo certo chi sei io sono il capo di questa umile gente che ha lasciato la superficie a causa di altri chi vi è costretto a rifugiarvi qui sotto la superficie di necropolis e l'acqua sono controllate da set e dai suoi ghoul noi siamo un gruppo molto più pacifico il che disgusta set perché set è un guerra fondaio chi è questo set set è un ghoul come noi che ha assunto un ruolo di potere nel mondo di superficie ma è soltanto un imbecille sembra essere una persona molto più interessa no perché vi permettete perché vi permette di vivere qui sotto lui non l'ammetterebbe mai ma set teme di non avere abbastanza uomini per difendere necropolis in caso di bisogno così ci fornisce l'acqua che ci serve per sopravvivere da dove proviene tutta quest'acqua fino a poco tempo fa pompavamo l'acqua dal sottosuolo con una pompa che si trova all'acquedotto fino a poco tempo fa cos'è successo nel frattempo ultimamente ho sentito delle voci secondo le quali l'acquedotto sarebbe stato occupato questo è importante da qualcuno tuttavia per qualche ragione le nostre razioni continuano ad arrivare regolarmente quindi vuol dire che il nostro set per quanto imbecille tutto sommato ha trovato un'alternativa per produrre l'acqua come lo raggiungo che cos'è l'acquedotto vabbè è l'edificio in cui magari ziniamo e distribuiamo l'acqua dove si trova l'acquedotto si trova al nord dovrai attraversare le fogne se vuoi raggiungerlo grazie non starei pensando di rubare il nostro water chip vero no no chi te lo fa pensare chi io no non lo farei mai una cosa del genere volevo solo vedere come funzionava chiediamo perché se rubi il nostro se rubi il nostro water chip moriremo tutti la nostra pompa non funziona non funziona abbiamo bisogno del chip per sopravvivere la prima è molto cattiva credi che sia possibile riparare la vostra pompa non sarebbe una cosa facile i pezzi di ricambio che servono per riparare la pompa sono andati perduti nelle fogne che si trovano sotto l'acquedotto e perché sarebbe difficile le fogne sono piene di mostri e nessuno di quelli che ho mandato a recuperarli è tornato vivo saresti disposto a recuperare quei pezzi di ricambio in modo tale da permetterci di riparare la pompa dal momento che siete degli incapaci immagino che sarò costruito no dai si grazie una volta che li avrei recuperati torna qui forse sarò in grado di aiutarti ok mi metto subito in cammino allora in realtà potremmo anche tranquillamente bellamente tra l'altro mi prendi kit di pronto soccorso tanto non credo al loro serva con tutto il rispetto siete robe marcescenti non credo che qualche venda o roba vi metta il sesto questo è il nostro nascondio io ti prego non dire ad anima viva dove ci troviamo i super mutanti ci uccideranno tutti un giorno e set non muove un dito vogliamo soltanto essere lasciati in pace ok qui in realtà vediamo una particolarità perché i ghoul in seguenti fallout verranno descritti molto più resistenti nonostante siano letteralmente marcescenti e qui invece come vedete hanno bisogno di acqua ma soprattutto hanno bisogno di acqua purificata perché tutto sommato hanno una grande resistenza le radiazioni ma non potrebbero sopravvivere bevendo solo acqua radioattiva per questo hanno la pompa per questo hanno bisogno del water chip che poi perché hanno il water chip questo ne parleremo nel prossimo episodio adesso non posso parlare sono di guardia ok tutti e due di guardia non mi ricordo oggettivamente dov'è il cazzo del del coso e questo mi da particolarmente fastidio intendo dove sono i rottami perché poi come vedete gli oggetti non sono molto visibili quindi oggettivamente non è facile trovarli salve ragazzi come va la vita sono finito in un puttanaio a cielo aperto mi faccia comprendere come sempre diamo un'occhiata alle librerie quindi ci dovremo esplorare tutti bellamente le fogne per tentare di scoprire o quantomeno scovare la zona tutti quei ghoul nella camera di fronte non mi piacciono affatto non mi sembrano per nulla amichevoli qui siamo comunque entrati in un'altra nuova area e qui avremo il nostro grande fantastico obiettivo di trovare set ho un set di grimaldelli che bello anche se praticamente non li uso mai ma li ho presi set da scassinatore perché quello sopra che cazzo è mi scusi ok altro set vabbè non si vogliono accumulare cazzo sono razzisti dicevo magari un salvataggio qui non fa malissimo innegabilmente è perso nelle fogne sto andando da set perché set ci darà la stessa missione quindi avremo doppia ricompensa se l'accettiamo da entrambi quindi allora cosa ci fai qui dammi una risposta sensata potrebbe essere la tua unica occasione questo edificio è stato dichiarato inagibile sono venuto a darvi un avviso di sgombero sei pazzo e adesso cosa mi dici faresti meglio ad andartene ok me ne vado cattiveria ma non ho capito se quello che ho fatto era tipo una prova eloquenza o altro sto cercando il capo set non è qui perciò smamma beh quando avrò trovato quel figlio di puttana fare in modo che nessuno possa più trovarlo beh vorrei dire che mi farai da punching ball da sacco da box fondamentalmente ah ok addio se ti riparlo no voglio entrare non credo proprio sparisci prima che chiami i ragazzi e cominci a ballare la rumba sulla tua faccia è una minaccia oddio forse avevo un fucile non dovevo gli altri sono pure armati questa zona non me la ricordo credo di sì sono tutti cattivamente armati e non mi fa impazzire la cosa in realtà ci sarebbe un altro accesso a questa zona noi abbiamo deciso pragmaticamente di prendere il peggiore oh Ian sei cattivissimo proprio si è fatto la passeggiata è arrivata vicino fucilata in faccia perché vi ricordo che Ian nonostante una pistola è una pistola con la canna tagliatissima l'hanno fatto trasformata una fucile in una pistola quindi a tutti gli effetti è una pistola se noi manteniamo questo schema anche perché io non posso passare quindi ma pure quelli là questa roba non ha molto senso che mi attaccano quelli dentro questa mi puzza leggermente di bug sì ma questo ci metterà tre anni a uscire di qui è oddio seriamente si odia e si ama fallout per questo è ben inteso ok 77 vai sempre al top ma che cazzo pure tu che fai inizia a diventare come Ian porco giuda poi Ian perché ti sei buttato proprio al centro ok beh uno è stato ucciso se ne devo occupare solo di due non mi dare una coltellata aia ho detto non mi dare una coltellata perché sono leggermente appesantito da gli sbagli di Ian che mi hanno portato ad avere poca 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 vita quindi te ne puoi andare per quanto mi riguarda oh il ghoul l'ha ammazzato aia aia in realtà ci colpiscono senza danni forse Ian un po' di danni li prende però apprezzo che loro caricano me così fino a quando fanno tutto il giretto del cazzo li posso ammazzare bellamente e singolarmente ok carne ma che carne fresca dai ti prego sei imbarazzante sei letteralmente imbarazzante che poi ora li abbiamo ammazzati tutti qui così per il lutto dovrò bestemmiare come un turco va bene oddio posso terminare il combattimento dovrò continuare a girare come uno stronzo effettivamente non me ne ricordavo così tanti va ok mi dai il tuo fucile tutto sommato e anche i tuoi 15 visto che io uso quelle munizioni ma mica il tavolo porco gioia tra tutte le cose tu sei andato a vedere il tavolo puttana troia ok per un attimo è impazzito il nostro amico lasciami perdere sì tu dovresti anche lasciare perdere me mi dai il coltellino avete tutti lo stesso coltello suppongo di sì ma ormai altri coltelli nonostante tutto credo siano largamente assolutamente intoccabili perché mi tocchi la libreria cazzo dicevo assolutamente intoccabili perché con tutte le con tutti i cadaveri che ci sono uno sopra l'altro non credo di riuscire a prendere più coltelli cioè contenteremo assolutamente di questi nonostante c'è comunque valgono 40 quindi non è malaccio cioè possiamo praticamente scambiare un coltello per uno steampack che ripeto tutto sommato è tanto di guadagnato va bene che abbiamo soldi a buttare però voglio comunque avere una certa libertà economica perché ora che torno dalla dalla zona di necropolis ho più che largamente bisogno di comprare tutti quei libri che stanno in biblioteca per a far aumentare al dismisura le mie abilità in nelle più svariate robe giusto per sicurezza nonostante c'è da dire che non mi serve ok la guardia è fuori ricordo bene facciamo un attimo il giro per uscire da questo posto di merda e qui la porta perfetto fuori ci accoglierà uno stuolo di morti ambulanti e questi sono molto più cattivi degli altri nonostante sono semplici ghoul però facciamo un giro per sicurezza per vedere la guardia cosa ci dice ok di qui del resto non a caso ci fa aveva ragione il nostro amichetto tu non dovresti essere qui amico sarò costretto a spaccarti il culo seriamente con quale coraggio dicevo con quale coraggio a parte questo per quanto riguarda la questione stavo dicendo del nostro perché io non perché io ho l'attenzione di un cervo porco giuda i resti rovinati di un camion diesel questo ammasso di ferraglia non si muoverà mai più vabbè grazie al cazzo cosa stavo dicendo qui come sempre griglie di uscita perché come vi ho detto a necropolis o vi muovete tramite le fogne o più banalmente non vi muovete semplice ora qui abbiamo già avuto una piccola visuale già gli occhi più svegli hanno potuto notare che ci sono degli esseri luminescenti possiamo dire così urgr sì 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 fate quel cazzo che volete un salvataggio però qui non ci sta affatto male onestamente non ci sta affatto male ah dicevo vabbè sì devo andare in biblioteca portare su tutte quelle abilità nonostante oggettivamente non ci servano più di tanto siamo sinceri non abbiamo questo assoluto e imperioso bisogno ok bravo mi hai attaccato e io ti faccio saltare il cervello per dispetto cazzo non muore resistente grazie no 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 non colpirmi colpite quelli a nord quelli a nord non quelli a sud quelli a nord tra l'altro è divertente quella noi andremo lì dalla set tranquillo guarda lo sai che ho sterminato metà della tua popolazione ok ok aia al torso perfetto loro continuano ad avvicinarci ma per me va bene l'importante è che non sono sulla traiettoria di Ian perché come ho detto Ian ha questo strano perk che se sei sulla sua traiettoria o comunque in generale qualsiasi persona sia sulla sua traiettoria ha una probabilità di essere colpita al posto del suo bersaglio fondamentalmente non ho ben capito perché a questa strana struttura gli hanno dovuto dare proprio questa perca anche perché la cosa scomoda è che Ian come dico come l'altra persona che dovremmo reclutare nel nostro party ce li porteremo fino alla fine quindi non è proprio una di quelle questioni che dici vabbè oh chi se ne frega una volta ogni tanto poi lo sostituiamo con uno migliore manco per il cazzo ce lo trasportiamo come un peso morto sulle nostre spalle che continuerà a gravarci con questa perca di merda che gli hanno appioppato gli sviluppatori ma è anche vero che Fallout tra l'altro piccola chicca tutti Fallout 1 e Fallout 2 nasce come risultato di una campagna in stile D&D ok quindi di GDR una campagna GDR da gioco da tavolo e i risultati di quella campagna venivano adattati strutturati per essere il futuro di Fallout quindi voi immaginate i sviluppatori che invece di fare brainstorming di mettersi lì a programmare storie strane o altro si insettevano semplicemente lì a tavolino si mettevano a giocare e i risultati del loro gioco erano di fatto il gioco stesso che avrebbero sviluppato nei messi successivi di fatto non mi ricordo ma tipo 7 era proprio il personaggio di uno dei sviluppatori che ha giocato in come si chiama in questa campagna tra sviluppatori delle interplay e quindi hanno portato a l'ha portato a diventare capo di necropolis ma prima era un semplice ghoul semplicemente giocato su carta e se ci pensate è veramente bellissimo pensare che noi in realtà stiamo proseguendo secondo le nostre scelte però non ho piacere giochi di dei primi anni 2000 e giù di lì questo qui è del 97 comunque avevano lo schema di creare una trama magari anche a più vie però poi istituzionalizzare letteralmente i finali canonici quindi ciò significa che innegabilmente si hai la varietà di finali però innegabilmente Fallout 2 prenderà come base solo certi di quei finali pertanto signori fatto ciò siamo arrivati a 37 minuti non voglio fare video troppo lunghi voglio sempre tenermi nella mezz'oretta quindi sono costretta a mettervi il tempo a tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio il prossimo episodio